Ci troviamo all'Istituto Tecnico Comerciale Geometri Europa Unita di Lissone nella provincia di Monza e Brianza per illustrare il lavoro svolto dalle classi 4 e 5 anno geometri a indirizzo a costruzione, ambiente e territorio che ha come oggetto il recupero delle aree dismesse. In particolare l'attenzione è andata sulle tante aree dismesse del territorio della provincia di Monza e Brianza con una particolare attenzione alle ex aree industriali tra cui è stata scelta la Fossati Lamperti. Per i visitatori del sito imprese-ddnews.it siamo qui con la direttrice dell'Istituto Maria Luisa Crippa con la quale parleremo delle motivazioni che ha rapportato l'Istituto a questa particolare scelta didattica. Grazie per l'opportunità che mi è stata offerta di poter presentare questo progetto che sta avendo una valenza formativa ma anche progettuale e sperimentale di notevolissimo rilievo per la nostra scuola. La nostra scuola si sta orientando verso una progettualità di innovazione didattica e questa progettualità coinvolge tutto l'Istituto ma nella fattispecie il corso CATT che non è molto noto perché l'espressione costruzione ambiente e territorio è stata cognata con i nuovi ordinamenti della scuola superiore. In realtà si tratta di un corso per geometri e la figura del geometra è una professionalità che non solo era ma è tuttora ben definita sia nell'ambito del mercato del lavoro sia nell'ambito in genere delle professionalità riconosciute. Il corso CATT con questo progetto si è posto nella direzione, nella prospettiva di interazioni dinamiche e formative con varie realtà territoriali ed è dal contatto a volte anche in parte casuale ma poi che poi è risultato invece fonte di coordinamento e anche di ritrovamento di un fil rouge tra i vari dati e le varie esperienze raccolte, questo progetto ripeto è nato da collaborazioni che inizialmente sono sembrate quasi casuali, in primo luogo con l'Università Carlo Cattaneo anche conosciuta come l'Uc di Castellanza. La struttura di questa università, buona parte degli edifici soprattutto quelli funzionali di questa università, è un esempio di recupero di area ex industriale tra l'altro realizzato da un noto architetto che è Aldo Rossi. I nostri ragazzi su invito della stessa università e a fronte di collaborazioni già espresse precedentemente con questa istituzione i nostri studenti hanno effettuato uno stagio, uno stagio di due giorni nell'autunno dello scorso anno nell'autunno del 2014 in cui hanno incontrato personalità di rilievo del settore nell'ambito sia storico sia architettonico e hanno avuto in questa circostanza l'opportunità di visionare i documenti originali di progettazione, tra l'altro anche facendo delle rilevazioni sul campo accompagnati naturalmente da un gruppo di nostri docenti. E poi subentrato un'ulteriore attività. L'attività è stata proposta da un sindacato attivo nel territorio, il sindacato pensionati che è legato alla CGL di Monzebrianza. Un progetto che ha avuto come titolo Memoria, lavoro e territorio. Ecco tramite un docente dell'indirizzo abbiamo avuto la possibilità tramite questo progetto di prendere contatto e anche di mettere in atto delle azioni di riscoperta della tradizione industriale e della cultura del lavoro del territorio di Monzebrianza. Tramite questo canale è stato possibile per i nostri docenti e per i nostri studenti insieme accedere a delle aree dismesse, quali la Fossati Lamberti di cui parlava la dottoressa precedentemente, dove sono state effettuate sul campo operazioni di osservazione e di studio, che sono poi confluite in attività più specifiche e più professionali di progettazione. È intervenuto poi un ulteriore un ulteriore progetto insieme all'INAIL relativo alla storia, anzi a storie della cultura industriale con particolare riferimento al problema della sicurezza sul lavoro, progetto che ci ha consentito di avere a scuola a contatto con i ragazzi degli esperti e dei testimoni provenienti direttamente dal mondo del lavoro, in alcuni casi anche avendo subito problematiche di sicurezza sul lavoro. È stato un ulteriore tassello che ha consentito ai nostri ragazzi di costituirsi, di farsi un quadro insieme della realtà industriale dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista dell'attualità. Gli insegnanti, ecco gli insegnanti hanno avuto un ruolo fondamentale perché a fronte della notevole quantità di dati che sono arrivati ai nostri ragazzi, gli insegnanti sono stati in grado di coordinare queste attività e di produrre una sorta di sintesi che io definirei di ricercazione da cui è scaturito un progetto di ampio respiro e questo progetto a sua volta, essendo di ampio respiro e anche coinvolgendo più aree, questo progetto ha consentito a sua volta di far partecipare più studenti, addirittura tre classi con ruoli diversi, in alcuni casi più attivi, in alcuni casi meno attivi, comunque tutte le tre classi del triennio del CAT hanno dato una mano a realizzare questo progetto. Il progetto è un esempio di integrazione, di integrazione tra l'opera formativa che spetta alla scuola e questa è io penso una delle finalità assolutamente primarie e rinunciabili della scuola e dall'altra parte la conoscenza e l'incontro con realtà economiche e sociali che per i ragazzi hanno avuto un forte impatto esperienziale e per certi aspetti potremmo definire pre-professionale, tra l'altro in linea con gli ambientamenti della recente legge 107-2015, nota come la buona scuola, dove si parla ampiamente di alternanza scuola-lavoro intesa come interazione dinamica della scuola con le realtà sociali e anche le realtà economiche del territorio. Tale progetto altresì ha avuto una forte valenza orientativa, non soltanto perché ha posto in atto delle azioni, delle interazioni costruttive e delle interazioni anche dialettiche con vari soggetti territoriali, il mondo delle professioni, le università, ma anche perché ha consentito di introdurre nel quadro della didattica nuove metodologie di apprendimento che rendono possibili, hanno reso possibile, rendono possibile e renderanno possibile anche l'acquisizione di nuove competenze spendibili sia dentro sia fuori la scuola. Faccio qualche esempio, learning by doing, l'osservazione sul campo, il metodo laboratoriale di cui tanto si parla nei nuovi ordinamenti della scuola superiore, il problem solving. Inoltre il progetto ha avuto una forte valenza formativa per i singoli studenti, ecco nel linguaggio un po' tecnico della scuola si parla di personalizzazione della didattica, ecco direi che questo progetto ha posto proprio l'accento, il focus su questa personalizzazione, nel senso che i ragazzi sono stati capaci e hanno avuto anche il contesto in cui hanno potuto esprimere delle competenze e delle capacità personali, anche del tutto personali e nello stesso tempo hanno potuto acquisire nuove competenze e nuove abilità.